Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video e oggi vi propongo un tutorial un po' vecchio stile, ossia senza sfondo sono decisamente molti anni che non realizzo un tutorial senza sfondo oggi ho pensato di realizzarne uno semplicemente perché volevo fare una cosa un po' veloce visto che mi stavo preparando per uscire quindi volevo registrare un tutorial però senza troppi filtri e direi quindi di non perderci in chiacchiere realizzare questo look su tonalità calde, derrame comunque tonalità neutre che trovo adatto un po' a tutte direi quindi di partire subito con il tutorial inizio ad applicare il correttore su tutta la palpebra nell'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopra il ciliare e nella piega dell'occhio nella piega dell'occhio creo una sfumatura piuttosto leggera utilizzando questo ombretto tortola nella parte finale dell'occhio un pelino nella piega dell'occhio applico questo ombretto marrone con sottosuono caldo creo un punto luce sotto l'arcata sopra il ciliare nell'angolo iniziale dell'occhio con un ombretto oro sulla palpebra mobile applico questo bellissimo ombretto rame vado a realizzare la mia solita riga di eyeliner nere ed applico il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio per quanto riguarda le labbra le vado a contornare e riempire con questa matita nude piuttosto chiara successivamente su tutte le labbra applico questo splendido rossetto rosso carne e questo è il look terminato io vi lascio come al solito le immagini finali fatemi sapere cosa ne pensate di questo look e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti iscriviti al canale